Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, match day Juventus contro Parma 20.45, Allianz Stadium sold out, la formazione, il caso non caso gatti, Blauvic, Ildiz, le discussioni su eventuali lamentele, cosa ci ha lasciato questa giornata di campionato che è iniziata ieri e già ci ha lasciato qualcosa? Cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato il non pareggio di San Siro su cui puntavamo tutti per riequilibrare le sorti del pareggio del derby d'Italia, invece così il Napoli scappa. Il Milan quasi out all'allenatore Fonseca che invece dice, dopo nove giornate non ho mai visto né perdere né vincere un campionato, quindi lui a cui danno del folle ci crede ancora, mentre chi in testa della classifica, il Napoli, l'Antonio Conte che sta scappando, diciamo che non ci crede o lo fare intendere che non ci creda per mani avantismo? Mani avantismo perché Conte dopo aver vinto anche a San Siro 2-0 approfittando delle sette assenze del Milan, della gara rinviata col Bologna, di alcuni episodi arbitrali, tanti dicono vabbè ma il gol di Lukaku, vabbè spalla a spalla, sì, spalla a spalla, però rusa via, spalla a spalla, spalla a schiena, anche un po' gamba, insomma, se ci fosse stato Blauvic, cosa succedeva? La punizione giallo probabilmente è successa con Seisao, quando aveva subito un fallo gli hanno dato simulazione rosso e squalifica per la giornata successiva, quindi nulla ci impedisce di pensare che con un nostro giocatore sarebbe andata diversamente. Ma detto questo, Conte vince, scappa e dice che 40 dell'anno scorso punto, il decimo posto, quando sa benissimo che la base del Napoli, quella dello Scudetto, più il mercato che gli hanno messo a disposizione quest'estate con tantissimi milioni, e quindi non stanno facendo le coppe, lo traduce in se ci qualifacchiamo per le coppe perché il Napoli le deve fare, insomma, sarebbe già un bel successo di quest'anno, se poi arriva la vittoria del campionato, miracolo, quindi se non arriva hanno fatto il loro dovere, se arriva miracolo suo, ma è il Conte che noi tutti un po' conosciamo. A questo giochetto non si iscrive Tiago Motta, che ancora una volta in conferenza stampa dice che abbia la testa sul Parma, partita dopo partita, portare la partita dalla nostra parte, insomma, la parola Scudetto non gliela Scucci, ma neanche se fossimo in testa della classifica. Ma in questo momento fa bene, ragazzi, in questo momento, attenzione, Tiago Motta fa bene perché siamo reduci dalla scopola con lo Stoccarda, siamo reduci al pirotecnico 4-4 di San Siro, siamo in una situazione in cui per vincere con il Parma la vittoria porta 3 punti e meno 5 dal primo posto, quindi figurati se non vinciamo. E siccome nelle ultime partite quest'anno allo stadio abbiamo un po' faticato anche e soprattutto nel punteggio, questa sera l'imperativo è vincere, che è l'unica cosa che conta in questo momento. I nostri tifosi hanno ancora strascichi da derby d'Italia perché finalmente vi state rendendo conto che vi prendono in giro e quindi ai vari casi si aggiunge la strizzata di Zebedei che ha subito Hildiz, finalmente l'hanno vista tutti, tutti quelli del mondo bianconero perché ovviamente non ne parla nessuno, con un Danfres già monito che, insomma, slealtà sportiva era da espulsione. Anche questo caso non è stato vinto, visto, perdon, dal VAR Mazzolini, visto che tutti parlano di guida ma non del VAR Mazzolini, che è sempre indicato come Mazzolini, Juve, Mazzolini, Juve come no. In tanti hanno ancora tra l'altro in testa l'altro derby d'Italia, quello con Zaccaria, rigore non visto dal VAR, perché l'arbitro dà la punizione ma il VAR lo sposta fuori area quando invece era dentro l'area di rigore. Ma queste sono quisquiglie mediatiche, racconti che i social fanno emergere ma la stampa specializzata vuole affossare. Veniamo alla partita di questa sera che è fondamentale, col Parma si deve vincere, non c'è la scusante della giovane età perché il Parma è ancora più giovane di noi, è la squadra più giovane del campionato. Il Parma è quarto ultimo in classifica insieme al Monza, sì, che hanno gli stessi punti, con tre squadre dietro, viene che non ha niente da perdere. Specchi, all'ischiera Specchio, 4-2, 3-1, sono giovanissimi, vediamo di fare la nostra partita ma di non farci fregare perché se poi loro ci aspettano, come scardinarli con Seisauda, una parte che pare giocare? Io uso sempre l'ipotetico, l'ipotetico e a volte il condizionale sulla nostra formazione perché fino a dopo la riunione tecnica del pomeriggio ridosso dalla partita ci si può sempre aspettare qualcosa da Tiago Motta. Ma le fonti che riceviamo per quanto riguarda la formazione parlano di Gregorio Importa, cambiaso da una parte che diventa imprescindibile e Cabal dall'altra che ha giocato molto bene a San Siro. Attenzione al question mark della difesa. Gatti è stato un caso? Gatti è un caso? Gatti non è mai stato un caso? Gatti è chiuso il caso? In conferenza stampa Tiago Motta ha detto che non c'è mai stato nessun malinteso, nessuna svogliatezza nell'amento, niente di niente, sono sempre scelte fatte per il bene della squadra. Ebbene oggi Gatti gioca ma gioca con Danilo, confermato, e Calullo con turno di riposo. Ora, se Gatti a noi non risulta, però sul si dice che Gatti è stato un caso ormai chiuso, ma se Gatti è stato un caso e quindi era fuori per diatribe con l'allenatore. Oggi che Gatti torna, perché gioca con Danilo? Allora dovrebbe star fuori Danilo, perché se Gatti è stato un caso e Danilo, che l'allenatore non gradisce come centrale, l'ha fatto giocare Stoccarda Derby d'Italia centrale al posto di Gatti perché era un caso, non si capisce come mai il giorno in cui Gatti rientra Danilo non esca. Quindi c'è qualcosa che non torna. Per noi Gatti non è stato un caso. O meglio, attenzione a quello che vi diciamo. Per noi, magari qualcuno aveva pensato che adesso la Continassa sarebbe stato tutto di diverso dominio e c'è tutto interno. In realtà magari chi viene escluso e non gioca è un giochino che i calciatori, insomma è vecchio come il cucco, parte dal Medioevo quando non c'era ancora il calcio moderno. Il calciatore è insoddisfatto, magari fa uscire per vie traverse qualche notizia che non è la notizia, mette in testa qualcuno qualche cosa, qualcuno sui social inizia a metterla in giro, diventa un caso, va allo scontro. Poi l'allenatore è costretto a puntualizzare in conferenza stampa, oggi lo fa giocare. Insomma, Gatti, importante è che sia, come dice Motta, sempre una scelta e solo tecnica per il bene della squadra. McKennie, super McKennie, utilissimo tatticamente McKennie, dovrebbe essere confermato insieme a Locatelli, che è l'unico che a un certo punto continuava a crederci in campo sotto di 4-2, andava da tutti i giocatori a dire e ci crediamo, ce la facciamo finché non è finita, con anche l'aggiunta di Turam. E quindi invece che era un 4-2-3-1, un 4-3-3 con Wea da una parte e con Seisado all'altra e Vlaovic in mezzo, oppure McKennie più avanzato, o Turam più avanzato, la vedo dura e quindi classico 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-3-1, ci sono tutti ma manca qualcuno, manca Hildiz proprio lui. Hildiz tenuto in panchina perché visto San Siro adesso diventa uno che entrando negli ultimi 20 minuti determina. Hildiz tenuto in panchina in vista delle prossime partite, Hildiz vittima di turnover o per non farlo vivere sull'altalena delle prestazioni, tenerlo calmo dopo due gol a San Siro, insomma Hildiz ha 19 anni ragazzi, Hildiz con Concei Sao in questo momento dovrebbe essere il super titolare inamovibile. Hildiz e Concei Sao più altri nove, ma questo lo vedremo questa sera. Vi ricordo, tuttojuve.com, minuto dopo minuto, live su live, pre-partita, le dichiarazioni dei nostri ragazzi, della dirigenza, dell'allenatore, partita, post partita, conferenza, dichiarazioni, video editoriali, insomma tutto quello che sempre vi abbiamo abituati a vivere con tuttojuve.com. E poi, finito tutto, colonnina di sinistra della home page di tutorial.com, c'è il sondaggio, MVP, miglior giocatore della partita, andate su e votate, 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 votate. Ma in questo gioco dello scudetto in cui tutti si estraniano tranne il folle Fonseca, voi come la vedete? Voi da che parte state? Ma se questo scudetto non lo vuole nessuno, perché non andiamo a prendercelo a noi? Grazie.